Sono state le parole declinate in tutte le loro forme, il canto, la recitazione e anche la danza, al contrario di quanto si è sempre pensato fosse muta, le protagoniste dell'assaggio dello studio tatale avviato da Moniovadia nel novembre del 2017, con alcune compagnie teatrali nissene e alla fine solo due sono le compagnie rimaste, le altre si sono perse per strada. Il coordinamento già a suo tempo è stato affidato a Michele Albano. Il percorso è stato entusiasmante come sempre lo è quando si basa tutto sulla relazione tra gli individui. È un momento di arrivo per la conduzione del maestro Vadia ed è un momento di inizio per un altro maestro del nostro teatro che è Aldo Rapè. Noi siamo la soluzione di continuità, cioè quelli che ricevono questa missione di creare un progetto laboratorio che coinvolga le associazioni locali e riportarle a questa nuova impostazione teatrale che darà Aldo Rapè. In una sala tristemente vuota si sono esibite alcune delle ballerine della compagnia di danza popolare Equipedi di Fora, l'inizio di uno studio che potrebbe diventare un progetto teatrale completo. È stata un'esperienza bellissima il momento della condivisione, ecco, questo potersi mettere a servizio dell'altro, ognuno con la propria identità. Per noi è stato... Io ho visto il gruppo molto emozionato davanti a Monica e la partecipe. Ci proponiamo appunto di continuare su questa scia e di coinvolgere quanto più possibile le altre realtà affinché arricchiscano questo mondo di parole appunto. La parte recitativa affidata alla compagnia Naponos di Diletta Costanzo sul palco Adriano Dell'Utri. Adriano Dell'Utri alla fine di questo percorso che è soltanto in realtà l'inizio di un laboratorio con Moniovadia e insieme a Michele Albano. Quali sono stati i pregi, i difetti, i vizi e le virtù di questo percorso? Allora, per quanto riguarda i pregi, l'idea di fondo quella che è interessante perché riuscire ad aggregare più associazioni diverse che magari ognuno di loro ha seguito un percorso completamente diverso l'un dall'altro e poi alla fine buttare giù le idee di tutti e creare una forma di spettacolo nuovo è la cosa veramente interessante. Difficile da fare, tant'è che alcune associazioni durante il percorso hanno rinunciato ma per mancanza di tempo. Doveva debuttare a fine maggio questa cosa e invece sarà ad ottobre. Quindi magari c'è il tempo, se volessero, di rientrare dentro il progetto e quindi creare questa sinergia che è una grossa novità per la città di Caltanissetta. Se vi fosse stato pubblico avrebbe apprezzato la lettura di Rosario Petix di un brano scritto da Michele Albano proprio nel giorno dell'anniversario della strage di Capaci. L'occasione è stata propizia per il passaggio delle consegne tra Moniovadia, Aldo Rapene o direttore artistico del Teatro Margherita. Il riscatto parte dalle periferie, ha detto Moniovadia. Lo studio teatrale sarà presentato ufficialmente ad ottobre e starà probabilmente l'inizio di un percorso che continuerà almeno nelle intenzioni di Aldo Rapè che ha già incontrato le varie anime del teatro locale, le compagnie che in realtà in questi anni sono state un po' dimenticate.